Ciao! Ciao tutti, sono Nelly e sono Benny e adesso faremo la reaction di Holland e Natta Fade 3, 2, 1, tajan! Aspetta! Oh mio, non mi diamo l'ora! Scusate, siamo stra in ritardo, lo sappiamo! Fra lavoro e tutto, una notte! Però il fiola, come direi, è giudo? È nudo? Sciuppa, adesso, vai a letta il, sta sciuppa! Oh mio! Cazzo, Benny, i totatitoli! Porca! Posso scoprire? E' la scoperta! E' la scoperta! Sta asciuppato, devi mangiare per me! No, però non adoro questo cuore! Sì, è! L'oretta! Oh, è bellissimo! Sì, è bellissimo! E' bellissimo la canzone! Ah, è che ha messo anche un po' di questo cuore! Sì! Uh, che bello così! Mamma, è che bello! Uh, che bello! Sì, è bello! Ma mamma, il tatuaggio è il tipo! Sì! Ah, giuro! Sono bellissimi! Sai cosa, è semplice! Ma per esempio, tutti gli altri, di tutti! Ma è bellissimo! Anche se non ha cazzato di video, è bellissimo! È stra-estated! È vera! Ma poi, se giuro, adoro la diversità! Wow, che bella ha cominciato! Sì, la voglio! Ma la faccio! Oh, è bellissima! Oh, la da qui, ti prego! È bellissima, la da qui! Anche le coppie in giro al sol! Che bello! Sì, magari qualcuno... È bellissima, la da qui, ti prego! È bellissima, la da qui! Che bello! Ma no, ma no! Ma io sono appi! Oh, mio dio! Ma pure, le manine! si sono anche io con yes si bravo wow che bello che bello che bello perché posso dire perché è perché è il progetto si e poi la queen is a raziale bellissima la queen io la amo è bellissima amore ma boh oh no ah io ho che ma ah perché diceva no non era un sogno no va a fa un culo no amore mi viene ma se è con me no sulla seconda luna questo video è bellissimo perché è un video semplicissimo perché è una festa con le foto però appunto tratta argomenti delicatissimi in Corea esatto c'è in Corea appunto c'è un Google però soprattutto in Corea tu vedi le gay lesbiche poi vedi alcol vedi fumo anche se è sigaretta vedi tatuaggi tatuaggi il ragazzo asiatico ma saranno belli i tatuaggi poi a punto c'erano anche ragazze asiatiche c'era proprio un misto era quello bello io mi sono innamorata era bellissima era figliissima ti prego ti prego che poi anche lì tra qui ne sono viste proprio malissimo in Corea quindi no è stato bravo perché appunto ha trattato argomenti delicati ma non in modo volgare c'è una festa ci sono tutti tranquillissimo senza problemi quindi è stata molto bella come cosa giuro quindi speriamo anche un po' di coreani apriranno gli occhi e la mente anche perché quello con cui si bacia è un attore etero mi sono informata quindi devo non è che si sia suicidato dimentico ma davvero non è che magari sono nascosto B no esatto vabbè comunque in casa scrivete cosa ne pensate voi del video e della canzone nei commenti e ci vediamo al prossimo reaction ciao